La giornata di oggi è stata molto interessante perché la nuova legge regionale va esattamente nella direzione del processo che abbiamo tentato di attivare come agenzia per lo sviluppo sul tema dello sviluppo locale. Nel senso che siamo sempre stati convinti che pianificazione territoriale e programmazione economica debbano andare sempre insieme di pari passo, cosa che ad esempio è accaduta con un caso specifico che è quello dell'insediamento di Berluti del gruppo Louis Vuitton con il quale abbiamo utilizzato gli strumenti normativi dell'accordo di riprogramma per poter facilitare l'insegnamento. Quello che ci è stato chiesto dall'impresa è stata una facilità nel termine dell'insediamento e anche una velocità delle tempistiche che ha consentito anche una notevole qualità anche nella realizzazione dell'edificio. Ovviamente come dire, questa è la prima impostazione del modello di sviluppo che ci piacerebbe comunque proseguire all'interno del nostro territorio e di certo la nuova legge urbanistica contribuisce a questo percorso. Grazie a tutti.